buonasera buonasera benvenuti dentro la nostra casa ciao stefania adriana ben trovati anche a tutti voi oggi facciamo il bucato si e ci tocca anche qua fare il bucato ma vogliamo essere veloci appunto fare cose semplici e usare magari prodotti naturali trucchi accorgimenti naturali per lavare al meglio la biancheria e anche magari qualche pezzo d'arredamento si ci sono delle cose che sono proprio ostiche che per esempio pulire il divano oppure profumare la casa che lì hai voglia lavare tutte le singole parcia puoi lavare i coprisedie puoi cercare sempre quell'idea che non sia igienizzato pulito ci sono degli aspiri intanto questo a prescindere dal nostro video ci sono gli aspirapolveri ormai hanno il bocchettone apposta per il divano e per il materasso quindi quello una volta ogni tanto facciamolo perché si riempono di acari di tutto viene uno schifo quando aspiri ti rendi conto di dove passiamo gran parte del nostro tempo sul divano ma anche sul materasso però il trucco che invece vi abbiamo preparato ci fa vedere proprio come lavarlo si arriva dalla spagna un trucco fantastico per pulire il trucco casero per eliminare eccolo qua allora come pulire il divano e quant'altro prendiamo uno straccetto come quelli per asciugare piatti acqua calda sapone liquido e aceto bianco e ipercarbonato ok e poi lo mettiamo nel nel coperchio delle pentole adesso poi lo facciamo a quel punto strofina e strofina e strofina facciamo come se avessimo uno spazzolone carico di detersivi esatto facciamo rivedere la pozione cosa bisogna mettere dentro perché bisogna mettere perché vabbè meccanicamente abbiamo capito come funziona l'asciugamano col coperchio però che cosa si mette dentro adesso ce lo fa vedere di nuovo questo video quindi acqua calda sapone liquido aceto bianco e ipercarbonato esatto che è un velocizzante era bello svuncio quel divano secondo me ma secondo me tutti infatti io amo il divano di pelle perché lo pulisci cioè il divano di stoffa è così purtroppo e si poi quello che non è sfoderabile ma anche quelli sfoderabili li ho fatti diventare piccoli cosa non ci rientrano mai e si perché li lavio a 80 gradi e poi non c'entra però questo è un trucco semplice quindi sapone liquido aceto l'aceto toglie il calcare abbiamo scoperto le proprietà dell'aceto che sono fantastiche però col sapone col percarbonato toglie l'odore di aceto perché poi è comunque fastidioso sapone il sapone liquido e il percarbonato servono adesso ecco questo qua è importante un consiglio perché prima di quando compriamo un capo d'abbigliamento ma anche un lenzuolo dobbiamo sempre lavarlo prima è un trucco assolutamente fondamentale perché a volte uno dice ma sì dai tanto è nuovo lo lascio lì e poi me lo metto invece è importante vediamo perché proprio lavare i capi nuovi questo ce lo dice casa in ordine questa count sì esatto ecco allora fermiamolo se è possibile uno perché potrebbe esserci un trasferimento di tintura non so se vi è mai capitato siccome si dice no che trasferiscono la tintura e quindi magari la prima volta non so che avete una maglia nuova un registro nuovo piuttosto che li lavate a mano proprio per evitare che non so il nero lasci sugli altri colori assolutamente se comprate un capo nero nuovo scuro lavatelo da solo con altri capi scuri solo che sudando piuttosto che comunque vivendo la giornata quella tintura si trasferisce addosso sulla pelle e queste fibre sintetiche trattate con i coloranti possono proprio dare allergie comunque creare delle irritazioni perché questa mia maglia gialla che è nuova io me la volevo mettere direttamente poi mi sono ricordata di questo consiglio proprio in questo caso e l'ho lavata ieri sera è asciugata di notte perché ho detto no non me la metto nuova perché chissà non è nera è gialla però questo tessuto sintetico in effetti ed è così che io ho guadagnato metà del mio guardaroma perché lei li compra li lava poi non può più cambiarli e quindi li prendo io beh ma non così tanti quando non mi piacciono bene dicono però non mi sta tanto bene allora vado a lei che io prendo tutto come avete capito beh ma perché a te stanno meglio che a me che la verità è quella purtroppo la mara verità è quella comunque uno è il motivo del trasferimento quindi vanno lavati assolutamente una volta poi igiene esatto perché possono sui vestiti in effetti si poi li provano tutti quelli che si provano in spogliatoio esatto perché chiaramente li provano tutti quindi può esserci qualsiasi cosa sopra lavateli vi prego e poi gli irritanti chimici quindi la formaldeide tutti questi odori magari aprite la maglietta vi è arrivata da internet e puzza c'è quell'odore di plastica di proprio di malsano poi vanno nelle ascelle magari ci sono i linfonodi crea le relazioni allergiche quindi questione igienica e questione di tintura quindi lavati ha ragione adesso qua c'è il capitolo alga ecco eccolo qua l'abbiamo trovato l'ho trovato e l'ho comprato ero anche in palette no ma e se anche palette è vero brava allora ero in questo negozio di casalinghi con un'amica anzi con due amiche e ho detto è lui era come se avessi visto un personaggio famoso sì 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 mi sono fiondata sullo scaffale e l'ho comprato allora vediamo cosa serve uno alga uno bucato a mano in lavatrice in questo caso si bisogna utilizzare 80 grammi di sapone inserendo la scaglia nel cestello uniti ai panni cioè praticamente possiamo fare le scaglie come col grana esatto e lo mettiamo nel cestello per le macchie più ostinate lo strofinate direttamente sulla parte interessata ecco qua e questo è questo è come additivo diciamo oltre al detersivo andiamo avanti il due sì anche perché possiamo farlo a pezzettini si può addirittura tenere un paio d'ore prima di effettuare perché è un po molle se lo vedete e adesso io ambra sto ecco vedete io lo posso schiacciare come se fosse un das il didò no è il pongo quindi è duro e cioè molle scusate quindi ritorniamo alla grafica se lo mettiamo in frigo prima si taglia meglio poi lo possiamo mettere anche in acqua dentro una mettete i tocchetti in acqua li portiamo a bollire e poi quando raggiunge il bollore spegniamo il fuoco lo copriamo col coperchio e il sapone si scioglie completamente quando il sapone si è raffreddato si può travasare nel contenitore aggiungere qualche goccia del vostro olio essenziale preferito e in questo caso diventa un detersivo liquido diventa un detersivo liquido che potete usare quindi come detersivo se non volete usarlo come delle scaglie di grana certo ok questo è poi tu hai preparato un video anche sì perché è un altro metodo per tenere cioè o lo usiamo come scaglie di grana come additivo oppure lo sciogliamo e lo usiamo come detersivo liquido oppure ne facciamo delle palline visto che si può dividere a pezzettini lo conserviamo che sono anche carine da mettere in casa secondo me quindi questa ha comprato il panetto di sapone esattamente come hai fatto tu esatto l'ha messo un frigorifero forse prima per tagliarlo meglio oppure no no perché lo è morbido lo taglia con lo spago con lo spago da cucina lo separa come si fa col burro praticamente e dividendolo in orizzontale in verticale in palline poi no lui lo divide in cubetti però poi li fa diventare palline e le mette nel borotalco perché sennò appiccicherebbero si diventano come delle palline di sapone proprio a quel punto ne usiamo uno alla volta li usiamo per strofinare le scarpe piuttosto che io devo dire che è proprio una rivoluzione ad esempio un altro uso del sapone alga è di metterlo dentro il water come profumatore igienizzante perché si appiccica lo appiccicate sulla parete del water se questo non lo sapevo l'ho visto su un video e in questo caso quando scende l'acqua igienizza anche un buon profumo come quelle capsule che si attaccano nel bc questo è più naturale delle capsule che chissà cosa c'è dentro e non è neanche carissimo no perché è un panetto così vi dura per tanto perché lo dividete in palline se non volete fare le scaglie di grana come diceva lei va bene siamo in ritardo però il sapone alga non potevo resistere va bene puliamo i calzini sporchi si allora intanto il sapone alga lo possiamo strofinare sui calzini un po come i saponi di marsiglia per sbiancarli e si mettono in ammollo in questa bacinella che immagino un po tutti noi abbiamo ricoprendolo per esempio con del bicarbonato del percarbonato oppure in questo caso proprio di un emulsione e poi ovviamente vanno sempre smacchiati questo è un processo da fare detersivo liquido questo è un alga sciolto secondo me quello che avevo immaginato con l'additivo chiaramente di ipercarbonato e c'è anche del detersivo e dell'ammorbidente del detersivo in polvere dell'ammorbidente ecco è un processo da fare perché poi non c'è niente di più fastidioso di tirar fuori dalla lavatrice pensando di aver lavato di averli ancora tutti sporchi quindi prima se sono sporchi è meglio metterli a bagno in questa con una soluzione sostanzialmente di sapone alga di aceto e di detersivo in polvere tra l'altro una volta lavati già così ci possono anche sciacquare mettere a stendere direttamente senza lavare nemmeno in lavatrice esatto adesso leggiamo qualche consiglio un consiglio da lavare per tutti i capi di abbigliamento allora non è necessario lavare sempre per forza esatto a volte si possono mettere anche all'aria fresca magari li mettete nella notte come ci insegnavano in tempo di covid però è vero ecco oppure addirittura annusarlo ci sono moglie e mariti morti per annusare le cose degli altri però diciamo che anche in questo caso può essere questo guarda che è un consiglio che è di buon senso a parte che è di buon senso ma con i bambini soprattutto c'è gente che fa video di video di youtube vi dico io come non lavare più poi via e ti dicono annusali eh sì che è proprio il consiglio non dico delle nonne ma delle bisnone no la cosa di passare una notte all'aria fresca però quello è vero eh e anche il fatto di non lavare sempre comunque perché a volte mi rendo conto anche una questione di rispetto per l'ambiente magari io ho messo una cosa veramente due ore ma che bisogno c'è sono andata a far la spesa lo mettiamo all'aria fresca e lo rimettiamo via e infatti adesso vediamo i dettagli ogni quanto lavare ad esempio le felpe e i maglioni ecco perché questa è una delle domande perché poi si rovinano e quindi ce lo chiediamo sempre bisognerebbe lavarli dopo due o tre utilizzi se si sono cotone cashmere o seta ecco in caso ovviamente se di cattivo udore o comunque di macchie li laviamo prima invece i maglioni che sono quelli in lana in sintetico possono essere lavati anche addirittura dopo cinque volte che li abbiamo indossati quindi cotone cashmere e seta dopo due o tre volte lana dopo cinque volte ecco poi secondo me c'è il buon senso dice anche che cosa ci abbiamo fatto ma chiaro che se l'abbiamo se l'abbiamo messo in metropolitana col caldo abbiamo sudato allora li laviamo subito ma per un uso normale la lana cinque volte quindi il maglione cinque volte il maglione di cotone due o tre volte andiamo avanti altri consigli di frequenza di lavaggio cosa abbiamo adesso i giacconi ecco anche questi una volta a stagione e addirittura chi li porta in lavanderia li dovrebbe lavare a secco i piumini e i cappotti anche un paio di volte l'anno mi raccomando che c'è scritto quindi non c'è bisogno di avere uno scienziato a casa perché se non abbiamo tagliato l'etichetta c'è scritto come lavarli e quindi se è necessario lavarli a secco oppure se si possono lavare anche in casa io mi rendo conto che alcuni piumini si possono lavare anche a casa il problema è l'asciugatura non so se vi è capitato perché poi si spostano tutta l'imbottitura da una parte o dall'altra poi abbiamo il video per spiegare come si fanno a rigenerare vediamo la frequenza dei jeans ancora sì anche questi non vanno lavati per forza dopo ogni uso ma qua dice 5-6 mi sembra un po' tanto io faccio 3 ma sì anche io anche perché vabbè poi uno si siede un po' in giro quindi eh io faccio 3 come proprio come ordine però qua dice ogni 5-6 meglio in acqua fredda sì oppure potete mettere in un sacchetto e li lasciate in freezer e il freddo elimina i batteri questa è fantastica sì solo i jeans però ma io a volte li lascio magari all'aria aperta eh sì prima di lavarli certo anche qui io penso che sia il buon senso un po' di ognuno di noi se c'è la signora che va dal panettiere e non si è saluta da nessuna parte è ovvio che li lava dopo 5-6 giorni ah sì certo il solito discorso che se invece vi siete seduti in tram al metropolitana io li lavo già dopo una io sinceramente poi ho letto di una ricerca vuoi proprio schifarti che ci sono uomini che non cambiano le mutante per 5-6 giorni no vabbè ma ho capito no una ricerca ma questi uomini non hanno delle mogli non lo so però anche senza potevano arrivarci eh sì però siccome siamo noi che facciamo un po' non so adesso chiediamo alle nostre amiche ma i vostri mariti siete voi che dovete dirgli lavati o si lavano no dai spero che un po' di autogestione ci sia c'è anche il reggiseno dai vediamo quello poi c'è anzi no sì dai leggiamolo ecco sì 3-4 utilizzi cioè poi si dovrebbe lavare a mano poi ci sono questi cestelli dedicati che vendono nei negozi di intimo dove potete metterli a quel punto si può lavare anche in lavatrice potete lasciarlo in acqua tiepida 10 minuti e poi lo lasciate mi raccomando all'ombra sì non è il sole stoglie l'elasticità se no il sole ecco e poi anche qui se ha il ferretto piuttosto che un'imbottitura attenzione non deforma ma anche come lo mettiamo poi nel cassetto eh sì che non si schiacci tutto comunque il reggiseno la regola è 3-4 volte questo devo dire che è abbastanza semplice da ricordare anche perché la reggisena non è che ti appoggi in metropolitana è l'intimo quindi va bene poi parliamo del pigiamino ma ci fermiamo allora rieccoci sempre consigli per il nostro bucato abbiamo visto ogni quanto lavare i vari capi di abbigliamento manca il pigiama eh sì il pigiama è proprio a contatto con la pelle allora vi hanno detto che di notte le cellule morte i batteri il pigiama almeno un paio di volte a settimana minimo andrebbe cambiato eh sì sia per una questione igienica sia per evitare problemi alla pelle infatti sono capi che hanno a ovviamente stanno a contatto con la pelle nuda come l'intimo è certo e quindi basta metterlo poi se dovete lavarlo tutti i giorni in acqua tiepida e detersivo e sciacquarlo e stenderlo però direi che anche a meno che uno non abbia proprio il pigiama anche di seta che si rovina così tanto ma sì la lavatrice va bene io ho tutto la lavatrice ma io sempre no ma no ma poi ci sono i lavaggi delicati ormai tutte le lavatrici del mondo ormai hanno il lavaggio delicato abbastano 20 gradi a 30 gradi a meno che uno non ci abbia sudato dentro e allora in quel caso lì va lavato a una temperatura più alta anche perché poi i pigiami sono fatti sempre o di seta o di cotone leggero o di raso non abbiamo tessuti così resistenti va bene ciao trucco allora questo trucco quando l'ho visto sono impazzita perché il ferro da stiro non serve solo per stirare ma anche per togliere le macchie ecco e questa è una cosa che non sapevamo un super trucco che questa signora ci sta svelando ci mostra anche come fare sentiamo anche l'audio o la plancha sta sucia e si queda pegata a la prenda quemandola un poquito vamos a poner in un bol un chorrito di acosigenata otro de vinagre di limpieza e un poquito di acqua con un trapito di algodon lo empapamos bene e lo ponemos sobre la mancha e un pañuelo encima planchiamo adesso presto lo vediamo una e otra vez ripetidlo se non sale la primera mirad queda perfetto mi resto della mancha quemada seguidme para más trucos como este allora una macchia generica si toglie mettendo due strati di cotone tra la macchia e il ferro e però bisogna mettere questa pozione che è fatta di acqua ossigenata aceto l'aceto quello che si compra per l'aceto bianco l'aceto bianco e acqua e acqua no tra l'altro non c'è niente di più eccola qua l'acqua ossigenata l'aceto ecco e l'acqua acqua ossigenata poi mettete dentro questo pezzettino di stoffa e lo mettiamo sopra la cosa da macchiare da smacchiare e poi un'altra sopra ancora e poi un'altra e ci stiriamo sopra io qua non l'ho mai provato io devo provare perché ho questa tovaglia ho fatto una cena l'ho lavata una fatica tutta quella bella delle feste e mi è rimasta sta marca gialla che dico no non ci posso crederlo devo rifare e hai provato con tutti gli smacchiatori sì non è venuto adesso provo con questo questo è la rivoluzione ma c'è esiste nei negozi dei casalinghi un aceto che serve proprio per pulire io non so esattamente come ma come ho trovato questo troveremo troverò anche quello è un aceto infatti questa sì ma ce l'ho io quello l'aceto di alcol ecco è l'aceto di alcol quindi in questo caso lei dice di mettere l'aceto di alcol l'acqua ossigenata e l'acqua fare una pozione sì e questa dovrebbe smacchiare qualsiasi cosa provate beh l'acqua ossigenata in realtà mi dicevano che si passa anche sulle unghie ingiallite le unghie per andare via il giallo quindi probabilmente è vero e però bisogna vedere anche la macchia di cosa è fatta comunque insomma questa influencer spagnola è convinta ma mi sembra affidabile una signora saggia esatto esatto i consigli della nonna ecco ecco l'ammoniaca cosa serve l'ammoniaca per smacchiare il bucato senza decolorare esatto sembra una cosa intelligente da usare quando abbiamo macchie di sudore o comunque dei residui di cibo se aggiungiamo al lavaggio anche il cucchiaio di ammoniaca che dovrebbe essere usata al posto dell'ammorbidente perché ha un potere fortemente sgrassante ma appunto non rovina il colore dei capi a differenza invece della candeggina che è chiaro che se la usiamo su un colore a quel punto dà fastidio possiamo rivederlo perché in effetti la candeggina oltre a nei capi colorati toglie il colore nei capi bianchi ha il rischio di ingiallire quindi la candeggina è un po' pericolosa quando dobbiamo smacchiare invece l'ammoniaca appare di no l'ammoniaca appare di no e si usa proprio per sgrassare anche delle pulizie di caso certo quello si quindi dobbiamo usarla anche se dobbiamo fare sparire dal bucato ma non dice di metterla sopra dice di aggiungere un cucchiaio al posto dell'ammorbidente nella lavatrice esatto esatto perché ha questo forte potere sgrassante quindi dovrebbe essere utile proprio per questa utilità se andate in vacanza e però potete portarvi una lavatrice portatile io non sapevo che esistessero no è una bella idea anche perché metti che uno ha rotto la lavatrice dice ma sai adesso non la compro subito no devo lavare tutto ma non la centrifuga abbiamo la soluzione una piccola lavatrice questa è una lavatrice tutta la casa perché non c'è tutta l'acqua che esce va in giro per tra lavandini eccetera e non ha neanche quella centrifuga che infiltrisce così troppo potente quindi è perfetta una non so se la conoscevate però in questo video non si vede ma poi si chiude si diventa piatta diventa piatta è come quei cestelli per scolare la pasta che si abbassano quindi questa lavatrice qua che ha queste dimensioni più o meno la potete chiudere la potete infilare in valigia io nella mia valigia di quest'estate ho già deciso se mai andrò da qualche parte ci sta la lavatrice che la schiaccio con il sapone l'anno scorso avevo già trovato il percarbonato che mi ha smacchiato tutto quindi la lavatrice che si piega e il ferro da stilo verticale il ferro stilo verticale l'ho comprato è fantastico no no quello l'ho portato nella casa delle vacanze infatti perché ovviamente sta lì va bene vediamo altre macchie le altre macchie ecco le macchie di aceto anche questo viene dalla Spagna sì come si fa eccola qua allora questa è una tovaglia tutta macchiata di vino di aceto scusate l'ipercarbonato l'ipercarbonato l'ho dejato 20 minuti 20 minuti a bagno nell'acqua caliente allora rivediamolo quando c'è una tovaglia qualcosa macchiato di aceto che può succedere o anche vino rosso o anche vino rosso esatto aceto e vino rosso il trucco è quello di eccola qua vedete come è macchiata questa con le feste poi tiriamo fuori la tovaglia bella e ce le macchiano esatto ipercarbonato a bagno nell'acqua calda 20 minuti e poi una volta smacchiato si può procedere al normale lavaggio eventualmente esatto anche qua e l'ipercarbonato l'hai detto che l'hai provato anche tu è pazzesco per le macchie tra l'altro anche lì costa poco quasi come bicarbonato attenzione una cosa che vorrei dire no è che ovviamente questi bisogna sempre lasciarli agire perché non è che ci mettiamo il bicarbonato e poi andiamo a lavarli bisogna lasciare almeno 20 minuti infatti lei lo specifica 20 minuti a mollo perché deve avere appunto il tempo di agire macchie generiche macchie generiche come toglierle vediamo insieme come make up per esempio quindi il trucco con la schiuma da barba oppure dalla pelle scamosciata nell'acqua struccante ah ecco rivediamolo con calma è troppo veloce le macchie di make up con la schiuma da barba e poi la lavatrice e poi con l'acqua micellare le macchie dalla pelle scamosciata quindi un modo per pulire la pelle la pelle bianca invece pelle normale che può essere il divano può essere la borsetta può essere un portafoglio con il latte detergente ah ecco questo non sapevo quindi la pelle bianca se avete delle borse di pelle bianca con il latte detergente o anche le scarpe bianche o anche le scarpe bianche di pelle così con il latte detergente va bene adesso visto che parliamo di bucato diamo la rinfrescata sui simboli ecco che anche qui se si conoscono i simboli si evitano tanti errori che magari in passato abbiamo fatto da quando li abbiamo scoperti non li facciamo più come dice Silvia Home Sweet Home allora la tinozza quindi questo indica il lavaggio e quindi se dobbiamo lavare a mano capi più delicati il triangolo è il candeggio quindi se ci sono le lineette ci dice se è possibile candeggiare o no e se con ossigeno o se con ma solo se c'è solo il triangolo vuol dire che si può candeggiare il quadrato è l'asciugatura quindi potete metterlo nell'asciugatrice oppure se c'è l'asciugatrice sbarrata no non dovete metterlo dentro esatto invece così vuol dire che si può ecco e poi informa se dovete astendere oppure no il capo per asciugarlo e il ferro da stiro dice se va stirato a norma normale a vapore da viaggio nelle stiratrici a seconda dei puntini che mettono comunque il ferro da stiro è abbastanza intuitivo ecco invece il cerchio è il lavaggio a secco quindi se potete fare la pulitura professionale o no perché mi è capitato di avere dei capi ereditati dalla nonna dove non c'era non il lavaggio a mano non il lavaggio a secco non il lavaggio a lavatrice non il lavaggio a lavatrice poi nel laboratorio sono riusciti a lavare però è chiaro che se dobbiamo comprare diventa un capo dispendioso perché se non puoi lavarlo è chiaro che se lo lavo in lavatrice a casa ha un costo se devo mandare in un laboratorio poi appunto un conto che ne so un impermeabile fatto di busso così una volta all'anno lo porto in tintoria ma non una cosa che metto tutti i giorni magari bianca che sono quelle cose che poi per lavare ti costa più che comprare un nuovo va bene adesso parlavamo del piumino ecco allora se c'era il simbolo non metterlo in l'asciugatrice c'è il quadrato ma l'avete messo lo stesso succede a me è successo che tutta la piuma è andata tutta da una parte tutta dall'altra io l'ho dovuto mandare in tintoria e mi l'hanno gonfiato però se insomma possiamo gonfiarlo anche a cari ecco questo video è fantastico con il phon il phon per i capelli quindi se noi soffiamo e poi sbattiamo con una specie di mattarello di asse e poi soffiamo il piumino dentro la piuma si sposta o la semplicemente l'imbottitura si risposta nei punti giusti quindi prima soffiamo col phon ma infatti in tintoria lo gonfiano eh sì e poi dopo con questa sbarra sì ma che può essere un mattarello sì qualsiasi cosa allungata lo sbattiamo in modo che il ripieno l'imbottitura si sposti si sposti ancora al proprio punto va bene questo è questo trucco per chiudere perfetto va bene ci fermiamo grazie Adriana un saluto a tutti grazie a te grazie alla regia ciao